ciao a tutti oggi siamo qui per una puntata un po particolare di sette giorni con dedicata allo smart working e registrata in collaborazione con tutti i miei colleghi con quelle stesse persone con le quali fino a poco più di un mese fa condividevo l'ufficio ogni giorno e che adesso invece come me si sono dovute adattare a lavorare da casa in modi diversi speriamo quindi che raccontandovi le nostre cinque esperienze diverse riusciremo magari a darvi qualche ispirazione qualche spunto qualche idea e vi invito fin da ora a commentare qua sotto descrivendoci come voi vi siete adattati al lavoro agile e già che abbassate lo sguardo mi raccomando se il video vi fosse piaciuto fate anche un bel like e iscrivetevi al canale ma fine adesso delle promozioni andiamo a vedere come funziona lo smart working di smart world allora prima di mostrarvi la mia postazione voglio partire con un paio di considerazioni magari anche banali ma secondo me importanti la prima non dovete far finta di essere in ufficio è palese che io qui sono a casa ovvero posso vestirmi in tuta non è un crimine non devo per forza mettermi jeans e camicia giacca e cravatta quello che volete anche perché magari in un momento di pausa volete andare nella stanza accanto a fare qualche esercizio magari con le app che vi abbiamo consigliato insomma non è obbligatorio fare finta che andiate al lavoro siete a casa sfruttatene quantomeno i vantaggi la seconda cosa la postura ecco questo è un pochino più complicato io per esempio non ho un desktop non ce l'ho da anni lavoro con i portatili e quindi non ho nemmeno una sedia da desktop o delle normali sedie che uso normalmente in cucina per mangiare che possono essere proprio le migliori se doveste lavorare otto ore al giorno di fila nella stessa posizione anche in questo comunque il fatto di essere in casa vi viene in aiuto non dovete più seguire rigido orario 9 18 faccio per dire potete giostrarvi voi il tempo come volete e quindi fare degli intervalli in cui non state per forza seduti sempre qui in cui appunto vi muovete in cui pensate un attimino anche alla vostra postura al vostro collo a sgranchirvi un pochino è importante soprattutto se lo smart working si prolunga nel tempo ma adesso lasciamo perdere queste intro e vediamo la mia postazione di smart working allora questa è probabilmente la postazione da smart working meno smart del mondo però ci sono secondo me tutti gli elementi essenziali anzi forse qualcosina anche di più io non ho un fisso in casa quindi lavoro con i notebook addirittura due perché due perché sostanzialmente su uno tengo per lo più le cose lavorative quelle importanti quelle sulle quali mi voglio concentrare in quel momento questo tra l'altro è il più potente dei due quindi è quello che userò anche per montare per esempio questo video il secondo notebook lo utilizzo diciamo non per lo ma comunque per le cose meno importanti e ha un grosso vantaggio cioè che si sblocca avete visto non appena io lo apro si accende all'apertura si sblocca subito con l'instant on c'è riconoscimento del volto è subito pronto quindi ad essere operativo e si presta molto a questo lavoro di stop and go che faccio nel corso della giornata per organizzare bene il lavoro vi consiglio due cose anzitutto un paio di cuffie o meglio se bluetooth così non avete cavi nel mezzo e secondo di poi noisly noisly è un sito che produce sostanzialmente del rumore di fondo cliccate sulla playlist produttività e scegliete quello che più vi aggrada a me piace quello col rumore di sottofondo del bar un po di temporale insomma quello che volete ce ne sono vari gratuiti c'è poi anche la versione pro ma in ogni caso già quella gratuita secondo me basta e questo serve un po a isolarvi dai tanti rumori che a casa ci possono essere ma per organizzare meglio il tempo vi consiglio di ricorrere alla tecnica del pomodoro ve ne ho parlato poche settimane fa in un video dedicato ci sono delle estensioni per chrome come questa qui che è marinara che trovo particolarmente ben fatta e aiuta a scandire bene il tempo perché proprio la scansione del tempo è la cosa secondo me più difficile nel lavorare da casa che non ci si rende bene conto di quanto passiamo effettivamente a lavorare e quanto invece passiamo disturbati dal rumore del figlio nella stanza accanto dal campanello dalle pulizie domestiche che ci mettiamo a fare insomma da tante altre cose delle quali non possiamo fare a meno ma che dobbiamo secondo me misurare per renderci conto di quanto a fine giornata abbiamo effettivamente lavorato e quanto no bonus il mouse che secondo me non è del tutto necessario ma se avete un buon mouse come questo multidispositivo che vi basta premere un tasto e passate appunto da un notebook all'altro senza veramente colpo ferire beh è indubbiamente comodo per il resto è innegabile se c'è vostro figlio nella stanza accanto che richiede attenzioni che ci voglia qualcuno che si prenda cura di lui e che il lavoro da casa non sia paragonabile in tutto e per tutto a quello dall'ufficio ma è come vi ho detto prima non deve per forza essere così dovete cercare di essere voi ad adattarvi un po di più ai tempi degli altri piuttosto che il contrario perché in certi casi davvero non se ne può fare a meno anche prima di questa situazione avevo comunque in casa una stanza dedicata al lavoro dedicata allo studio che ovviamente usavo relativamente poco visto che avevo modo e anzi lavoravo stanzialmente tutti i giorni in ufficio sì vabbè c'è anche un po di lego molto molto bello in questa stanza ma non è questo che volevo farvi vedere quello che volevo farvi vedere è la mia postazione questa è una semplicissima poltrona Ikea abbastanza comoda ma ovviamente non pensata in realtà per lunghissimi periodi questo è come vedete qui davanti un MacBook Pro da 16 che è la mia macchina principale vi lascerò poi maggiori dettagli ovviamente su tutti i vari dispositivi e questo è una cosa che fa arrabbiare moltissimi ovvero uno sticker sul MacBook che va a essere in coordinato con quello di tutto il dispositivo vabbè lo so questo vi farà sicuramente molto arrabbiare non mi interessa ma qui abbiamo questo che è il mouse che utilizzo tutti i giorni ovvero un MX Master di terza generazione Logite con prodotto fantastico ne ho discusso anche con molti di voi ed è veramente un prodotto super super apprezzato e a supporto qui per l'utilizzo del MacBook Pro c'è questo che è un iPad Pro non quello 2020 ma quello della generazione precedente impostato con Sidecar ovvero sostanzialmente per chi non conoscesse Sidecar si io muovo la freccetta di qua vedete finisco qui sostanzialmente anche su iPad Pro o macOS ed è un prolungamento un secondo monitor è molto molto comodo qui a titolo esemplificativo ho messo Spotify ma lo utilizzo per cose mentre lavoro decisamente decisamente più importanti quindi di solito ci tengo le chat qui abbiamo questo accessorio che è un dongle di Minix mi serve principalmente per utilizzare il lettore di schede SD e micro SD in ufficio ho una dock con molte più porte in questo caso mi accontento di questo che funziona alla grandissima non è neanche oltretutto un prodotto particolarmente economico qui abbiamo un computer un computer compatto da scrivania comunque un barebone che avevamo recensito comunque su Smart Word e che utilizzo come dispositivo secondario un dispositivo Windows collegato a lui c'è questa tastiera di Razer che è veramente molto molto bella ma ha un difetto il software che non funziona e infatti non riesco più a modificare i colori della tastiera questa che è una creative sound blaster ROAR 2 mi pare non recentissima ma funziona molto bene un vecchio, questo è veramente vecchio monitor ASUS e anche qui a corredo un Logitech MX Master in questo caso non ricordo se è di prima generazione oppure se è un 1S comunque funziona ancora alla grandissima qui c'è anche un DJ Osmo Pocket che però con cui avevo cercato di fare questo video prima di farlo come lo sto facendo ora con uno smartphone ma non mi aveva dato la soddisfazione che speravo questo è invece queste sono delle cuffie delle cuffie Logitech che a guardarle sembrerebbero molto cheap anche a prenderle in mano perché sono estremamente leggere ma poi si capisce che il suo essere estremamente leggere è un enorme vantaggio per l'utilizzo prolungato qui ci sono tutti i controlli sono veramente comodissime tutti i controlli lo vedete qui e qui c'è un selettore che permette di collegarlo via Bluetooth e in questo caso si collegano al mio Mac oppure con il Dongle e in quel caso si collegano al PC Windows che vi ho fatto vedere prima che è la mia macchina secondaria si ricaricano tramite micro USB e sono fantastiche c'è ovviamente il microfono che come vedete è estraibile quindi lo potete tirare fuori soltanto quando vi serve e non avere quindi fastidi di nessuna sorta sono veramente notevolissime non gli avrei dato un euro prima di provarle ora che le ho provate non ne farei più a meno qui c'è una vecchia stampante HP che fa ancora il suo dovere una stampante laser una Nest Cam per la sicurezza una lampada Xiaomi ma proseguendo sul filone di Logitech vi faccio vedere anche questa che è la StreamCam che non sto utilizzando sempre ma sto utilizzando quando devo fare contenuti video quindi o qualche spezzone di recensione o ancora di più fare le live del venerdì perché la qualità di questa è nettamente migliore di quella della webcam del MacBook che invece è abbastanza deludente come sappiamo qui ci sono tutta una serie di smartphone che provo che mi stavo utilizzando e lì per genere di conforto diciamo c'è un Google Home che fa egregiamente il suo lavoro per riprodurre un po' di musica di sottofondo mentre lavoro durante la giornata chiudo con un ultimo dispositivo smart barra domotico che è questo che è una lampada Mijia di Xiaomi che ha qui un selettore che non solo cambia ovviamente l'intensità ma se lo tengo premuto e giro cambia anche la temperatura colore della luce e questo è molto gradevole perché magari la mattina la tengo un po' più fredda la sera la metto un po' più calda per affaticare meno la vista allora ragazzi è il mio turno di raccontarvi un po' come funziona il mio smart working giusto per citare una nota pubblicità il mio smart working è differente cito quello che ha detto Nicola perché ad esempio lui parlava di tempistiche ovvero di come funziona lo smart working a casa che spesso cercare di rispettare gli orari lavorativi classici è un po' un dramma in casa per via delle distrazioni per via del fatto che comunque appunto ti trovi nella tua abitazione c'è sempre qualcosa da fare qualcuno che ha bisogno di qualcosa per quanto riguarda la mia organizzazione invece io cerco abbastanza di rispettare quelli che sono gli orari appunto lavorativi ovviamente con delle eccezioni nel senso per esempio la pausa pranzo è un pochino più ampliata cerco appunto di non andare né troppo tardi né troppo presto per dire mi sveglio alla solita ora a cui mi sono sempre svegliato ma riguardo per esempio all'abbigliamento sono d'accordo con Nicola alla fine ci troviamo in casa mi sembra abbastanza inutile cercare di pretendere di mettersi jeans di mettersi camicie per cercare appunto di essere in ufficio non siamo in ufficio siamo a casa è un modo di lavorare diverso e quindi mi vesto da casa ora volevo farvi vedere un attimo anche la mia postazione per spiegarvi un altro paio di cosettine velocemente ecco io ho cercato di organizzarmi la scrivania la mia piccola scrivania in un modo un po' differente un po' come ce l'avevo in ufficio e vado subito ad un piccolo dettaglio visto che ne ha parlato Nicola come vedete c'è il timer 25 minuti sullo smartphone è quello per la tecnica del pomodoro utilizzo la tecnica del pomodoro non soltanto per la concentrazione ovvero per dire faccio un task di 25 minuti e poi una pausa di 5 minuti ma anche per fare un po' di movimento perché utilizzo quei 5 minuti di pausa e poi il quarto d'ora di pausa per fare appunto attività fisica ora fino a poco tempo fa avevo una cyclette la cyclette ha deciso di rompersi per cui l'ho sostituito con un'ellittica quindi appunto nei minuti di pausa tra una fase pomodoro e l'altra mi faccio 5 minuti di ellittica o un quarto d'ora di ellittica in questo modo appunto mi tengo un minimo allenato faccio un minimo di movimento per non appunto schiantarmi su una sedia per 8-9 ore consecutive non so in realtà guardando la scrivania quali altri spunti lavorativi potrei darvi perché alla fine dipende anche dalla strumentazione che utilizzate se avete notato i due tappetini del mouse è per il semplice motivo che quello grande viene spesso occupato dal gatto e quindi non posso usare il mouse e mi sposto su quello piccino per il resto ho una base per tenere sollevato il portatile giusto per la reazione appunto per le ventole ho un monitor abbastanza ampio un monitor da 32 pollici perché mi piace avere più finestre affiancate quindi magari avere non lo so facebook da una parte e l'editor di testo da quell'altro appunto più programmi in esecuzione da spostarmi un po' come voglio sul desktop anche se windows non ha questa gran gestione delle finestre un pochino meglio del passato ce l'ha mi riallaccio sempre poi agli discorsi di nicola sulla musica non uso appunto qualche generatore di rumore ambientale uso musica classica ho un paio di cuffie appunto musica classica non nel senso del genere classico musica alterno un po' speaker a cuffie per non rintronarmi troppo con le cuffie e anche perché magari se sono da solo a casa e non sento il campanello se ci fosse bisogno appunto un po' di rumori ambientali li devo sentire e nient'altro appunto il consiglio che vi posso dare è quello appunto di non fare finta di essere in ufficio ma comunque almeno appunto a mio avviso almeno per come mi comporto io in casa cercare di avere degli orari comunque delle finestre in cui concentrarsi sul lavoro di mantenere dei ritmi abbastanza simili di concedersi ovviamente delle distrazioni se in casa succedesse qualcosa ma comunque di non sforare troppo premessa lo so che il mio aspetto non è dei migliori ma come ha detto anche il presidente Mattarella nemmeno io posso andare dal barbiere detto questo volevo raccontarvi anch'io come lavoro da casa come ho affrontato lo smart working e diciamo subito che io sono abbastanza abituato a lavorare da casa perché è quello che ho fatto negli ultimi tre anni a dire la verità non adotto tecniche particolari per dividere il lavoro qui a casa le mansioni che mi competono mi consentono di staccare al momento giusto mi consentono di dividere i vari compiti a seconda delle esigenze quindi da questo punto di vista mi trovo molto bene non ho particolari problemi e in più la fortuna di lavorare da casa è che devo fare pochi metri per arrivare alla mia postazione di lavoro volete sapere quanto è vicina la mia postazione di lavoro al mio letto? andiamo a misurarlo ok, iniziamo allora, siamo già un metro un metro e mezzo due metri direi che sono anche troppo pochi andiamo dunque a vedere la mia postazione di lavoro che come potete subito notare prevede due monitor il primo, quello a destra è un Dell IPS 4K calibrato di fabbrica quindi è perfetto per fare editing foto, video e lavori di grafica di tutti i tipi e il secondo invece è semplicemente un televisore Samsung ormai vecchiotto ha credo più di 10 anni ormai e lo uso come secondo monitor è un Full HD i colori sono probabilmente tutti sballati ma per fare un pochino di lavori ausiliari è sempre utile avere un doppio schermo sulla parte bassa c'è una tastiera meccanica Cooler Master con switch Cherry Brown quindi non troppo clicky ma neanche poco silenziosi una via di mezzo che secondo me è perfetta è lo sweet spot sia per scrivere sia per giocare subito dietro lo vedete un piccolo speaker anzi neanche troppo piccolo speaker Anker che io collego wireless al computer o ai vari dispositivi mobili che ho e qui sulla destra ovviamente non può mancare un bel mouse io ho il G603 di Logitech che è in teoria un mouse da gaming ma è perfetto anche come utilizzo di produttività se vi stavate chiedendo a che cosa serve quell'asta nera che vedete sulla parte sinistra ebbè quella è l'asta del microfono lo so non è il modo più comodo per tenere un microfono perché per aprirlo devo fare tutti questi passaggi eccolo qui però fa il suo dovere il cavetto è qui dietro e all'occorrenza lo collego tac e subito funziona diciamo che è tutta una struttura componibile che quando serve sa trasformarsi ad esempio se vogliamo fare una videochiamata e abbiamo bisogno della webcam la troviamo qui nascosta ecco qui ma dove sono collegati tutti questi monitor e questi accessori a questo computer che non è altro che il computer che mi sono assemblato qualche mese fa e che avete visto nelle puntate 2 e 3 del trincetto o meglio avete visto i vari componenti che venivano spacchettati e questo è il risultato finale il risultato di tutti questi spostamenti e montaggi lo potete vedere adesso con i vostri occhi in questo momento sto parlando alla webcam il microfono che vi ho fatto vedere è qui in basso e visto che ci siamo colgo l'occasione per parlare anche di audio oltre allo speaker anchor di cui vi ho parlato poco fa utilizzo molto di più le cuffie a partire da queste AKG K242HD che sono delle cuffie da studio semi aperte a padiglione circuma orale molto fedeli per quanto riguarda la risposta in frequenza che è abbastanza flat queste sono invece le Sony VH-H900N delle cuffie bluetooth wireless dotate di riduzione del rumore con un design molto minimale e che sono praticamente quelle che utilizzo di più ecco se dal punto di vista degli strumenti lavorativi non è cambiato moltissimo quello che è cambiato è il punto di vista umano comunicativo ovviamente adesso l'unico modo che abbiamo per sentirci tra noi colleghi è quello di fare una videochiamata o al limite una telefonata e non è la stessa cosa perché tutto quello che prima si poteva fare anche semplicemente guardandosi negli occhi capendo l'un con l'altro una idea se poteva essere buona se doveva essere invece tralasciata adesso è un pochino più difficile speriamo dunque di poter tornare presto in ufficio ma anche solo poter uscire in strada e incontrare altre persone per il momento continuiamo ovviamente a lavorare sui nostri siti e sui nostri canali YouTube sui social e su tutte le nostre piattaforme voi teneteci sempre d'occhio un saluto da Vezioce Nicola e alla prossima Nicola mi ha chiesto di raccontarvi come si lavora in smart working quindi vi faccio vedere prima la mia postazione da casa e poi vi dirò un paio di cosette che faccio qui quando lavoro da casa allora in primo luogo come potete vedere ho la fortuna di avere un grosso monitor che tengo collegato al MacBook come tutto il resto dico la fortuna perché per me è fondamentale avere un grosso display perché tendo a lavorare con diverse finestre affiancate quindi su uno schermo di un portatile dopo un po' mi stanco quindi per fortuna ho un monitor ho una tastiera meccanica di qualità abbastanza infima ma che mi fa comodo perché è piccolina poi me l'ha regalato un amico che non la utilizzava più e devo dire è stato comunque un regalo apprezzato ho il mio bellissimo MX Master 2S che per me è fondamentale per lavorare e sono stato veramente fortunato a portarlo via dall'ufficio l'ultimo giorno prima che chiedessero tutto un caso perché normalmente lo lasciavo in ufficio ma per fortuna adesso ce l'ho a casa e mi è molto comodo perché utilizzo tantissimo le scorciatoie basate sul tasto che si preme col pollice quindi scorrere tra i desktop oppure aprire il mission control e così via alle mie spalle ho un microfono che utilizzo per registrare i podcast di Smart World e per tanti progettini personali di podcast che prima o poi vedranno la luce e questo microfono è collegato a una scheda audio pre-sonus poi ho un caricatore multiplo delle casse che in realtà utilizzo molto poco e la mia piantina che è una piantina vera non come quelle finte da youtuber detto questo come procede il mio lavoro in smart working la prima cosa che faccio quando mi siedo alla scrivania è controllare cose successe nel mondo quindi apro un po' di fiti di stampa estera apro il mio offer le mail reddit la mia lista di giornalisti tech su twitter e così via tutte cose per controllare cosa è successo specialmente durante la notte negli Stati Uniti questo lo faccio subito appena mi siedo perché tendenzialmente erano cose che prima mi capitava di fare anche in metropolitana comunque anche magari distrattamente ma ci si rendeva conto guardando anche distrattamente appunto twitter o reddit se era successo qualcosa di importante durante la notte adesso non vado più in metropolitano ovviamente tendenzialmente la mattina cerco di non utilizzare dispositivi elettronici prima di mettermi al computer quindi lo faccio come abitudine appena mi siedo alla scrivania detto questo la mia colonna sonora quando lavoro è la famosissima playlist di musica lo-fi quella probabilmente l'avrete già vista mille volte quella famosa su youtube con la ragazza disegnata in stile anime che lavora studia uso quella perché è musica tendenzialmente poco ritmata o comunque che mi permette di non distrarmi anche perché non è cantata quindi è praticamente un sottofondo musicale che non mi distrae a proposito di musica di fondamentale importanza le cuffie a cancellazione del rumore io utilizzo queste Jabra Elite 75T dico di fondamentale importanza perché mi permettono di isolarmi bene dal mondo e questo è fondamentale anche e soprattutto quando magari la mia ragazza è in riunione con il suo ufficio e quindi io voglio isolarmi non ascoltare i rumori esterni per non distrarmi uso anch'io la tecnica del pomodoro che probabilmente qualcuno del team avrà già raccontato la uso perché mi permette di stare concentrato per 25 minuti senza senza distrarmi visto che comunque in casa è tendenzialmente più facile concedersi a distrazioni ma la uso anche perché dopo i 25 minuti ci sono i 5 minuti di pausa che comunque mi permettono di alzarmi sgranchirmi le gambe e così via per evitare di stare 9 ore 10 ore seduto alla scrivania senza muovermi personalmente utilizzo un'applicazione che si chiama BeFocused si trova gratis sull'app store molto molto semplice semplicemente un'icona nella barra in alto dalla quale far partire i timer del pomodoro per quanto riguarda il resto il mio lavoro da casa è praticamente identico a come era in ufficio utilizzo molto il multidesktop nella schermata desktop principale diciamo così tengo affiancate due finestre di Firefox una con l'editor di Wordpress dei nostri siti l'altra con decine di schede in cui tengo sotto controllo le fonti in un altro desktop tengo Telegram per comunicare con il resto del team e le mail in un altro desktop ancora tengo la musica e così via credo di aver detto tutto e soprattutto credo che il tempo a mia disposizione sia finito se avete dubbi o domande sui prodotti o servizi che utilizzo anzi che utilizziamo anche con il resto del team parlo a nome mio ma anche dei colleghi fatecelo sapere nei commenti qui sotto saremo felici di rispondervi di darvi maggiori delucidazioni su come ci stiamo comportando come stiamo gestendo questo periodo di smart working ciao ciao Ciao